Buon pomeriggio da Alessandra Costanza e benvenuti a 19 live. Vi ricordo che siamo come ogni giorno in diretta sul 19 Tele One. Potete interagire con noi e i nostri numeri, chiamare in diretta lo 091-333-660 oppure mandare un whatsapp al numero che vedete sullo schermo. Nella puntata di oggi tratteremo i temi caldi che riguardano il CAF e i patronati. In particolar modo il modello ISEE è il modello RED e soprattutto cercheremo di capire chi potrebbe perdere il reddito di cittadinanza quest'anno dopo la compilazione del modello ISEE. Naturalmente non sarò sola, in studio con me ci sono i nostri esperti. Benvenuto Carmelo Loforte del CAF Anmil di Palermo. Ciao Alessandra, buonasera a tutti. E poi nella seconda fascia ci sarà con noi la signora Flora Strano del CAF ACLI di Catania. Intanto iniziamo con Carmelo. È vero che questo tema sta destando molta confusione? Ma sì, la confusione appunto è dettata dalle tempistiche abbastanza strette per la presentazione del modello ISEE perché ricordiamo che entro il 31 gennaio chi percepisce soprattutto il reddito di cittadinanza ha l'obbligo di presentare la DSU e quindi avere attestata la propria situazione reddituale per continuare a prendere il beneficio per evitare di perdere il diritto al beneficio. Allora Carmelo, tu sei entrato subito nel vivo della questione e stai iniziando a parlare in maniera molto tecnica. Io vorrei far capire innanzitutto ai nostri telespettatori che cos'è il modello ISEE e lo facciamo con un contributo video realizzato dal nostro Roberto Marco Oddo. Vediamo questo contributo video che ci spiega che cos'è, a cosa serve, come si deve compilare questo modello ISEE e ritorniamo in studio per capire se realmente in questo periodo di emergenza sia sanitaria ma anche economica ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe perdere il reddito di cittadinanza. Vediamo questo contributo video. Grazie. Cos'è il modello ISEE? A cosa serve e quando si deve presentare per usufruire di tutte le agevolazioni? Il modello ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente e serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. L'ISEE costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. È in pratica la carta d'identità economica del nucleo familiare, cioè di tutte le persone riportate sul cosiddetto stato di famiglia che risultano essere coabitanti presso una determinata abitazione. L'ISEE non corrisponde mai a una fredda somma numerica ma è il risultato ponderato di un intreccio di variabili matematiche e non matematiche come la quantità di persone all'interno del nucleo familiare o l'eventuale presenza di disabili invalidi e viene calcolato sulla base dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva unica DSU che resta valida fino al 31 dicembre dello stesso anno. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza vi è l'obbligo di presentare l'ISEE entro il 31 gennaio al fine di poter continuare a percepire il sussidio anche nel 2021. Possono fare l'ISEE tutti i cittadini residenti in Italia che desiderano accedere a prestazioni sociali agevolazioni o bonus vari. L'ISEE è uno strumento con il quale si verifica se una famiglia ha diritto o meno a determinati sussidi, benefici, agevolazioni in base alla propria condizione economica. Spesso le prestazioni per cui si richiede l'ISEE non sono nazionali ma locali quindi anche le informazioni e i requisiti di accesso possono cambiare da comune a comune e dipendono dal nucleo, dal luogo e dalla singola prestazione richiesta. Siamo nuovamente in studio con 19Nive, vi ricordo che siamo in diretta e potete interagire con noi e chiamare i nostri numeri allo 091-333-660 oppure mandare dei whatsapp con le vostre domande. Il tema di oggi è un tema caldo in questo momento per quanto riguarda i CAF e i patronati riguarda il modello ISEE in questa prima parte e soprattutto cercheremo di capire chi potrebbe perdere il reddito di cittadinanza con la compilazione di quest'ultimo quest'anno. Insieme con noi Carmelo Loforte che stava iniziando a spiegarci qual è la situazione in questo momento appunto per chi ha il reddito di cittadinanza e deve portare la documentazione il 31 di gennaio. Allora Carmelo, abbiamo spiegato bene attraverso questo servizio di Roberto Marco Oddo che cos'è l'ISEE? Sì sì, nel servizio era spiegato molto bene, ecco appunto il caos che si sta creando in questo periodo soprattutto per il reddito di cittadinanza ma non solo perché comunque ricordiamo che l'attestazione ISEE serve per tutte le prestazioni appunto collegate ai benefici sociali collegati al reddito del nucleo familiare. Diceva bene appunto il servizio che la composizione del nucleo familiare ai fini se ovviamente non è una composizione semplice, ecco bisogna anche stare attenti a compilare bene quello che è il proprio nucleo familiare per evitare di incorrere in futuro in eventuali sanzioni ecco anche da parte dell'interrogatore della prestazione. È l'indicatore della situazione economica familiare l'ISEE, quindi può essere, può servire per chiedere delle agevolazioni abbiamo detto. Sì, è fondamentale per poter accedere a tutte le richieste di prestazioni quali per esempio appunto il bonus sociali per chi ha un ISEE inferiore a una determinata soglia può accedere a una riduzione e a uno sconto anche su quello che è il costo delle bollette, ecco insomma in questo momento... Anche il bonus bebè, vero? Il bonus bebè. Relativo all'asilo nido? Esatto, quelle che sono le prestazioni legate all'università per esempio con l'ISEE universitario perché è chiaro che l'università, ecco prendiamo ad esame per esempio l'università degli studi di Palermo ma è un po' tutti, un po' per tutti così ecco, per l'iscrizione, per i costi di iscrizione pone determinate soglie da non dover superare. Il rispetto di queste determinate soglie è dato appunto da quella che è il valore ISEE e il valore ai fini ISEE che sono comunque fondamentali nella... durante le nostre... la presentazione dei consigli. Allora Carmelo, abbiamo subito una telefonata. Vediamo se la regia la manda in studio. Salve! Pronto? Pronto, buonasera! Sì, buonasera. Io... cioè, buone volte le lucidazioni. Signore, intanto come si chiama e da dove chiama? Chiamo da Siracusa. Chiama da Siracusa e lei si chiama? Da signora Miriana. Perfetto! Signora Emiliana, cosa vuole sapere? No, le volevo chiedere, in quanto, cioè, il reddito di cittadinanza, se io ho una famiglia con un fratello che... Ha un fratello con... Sì, è disoccupato. Ah, ok, disoccupato. ...quanto ha un fratello di mamma, però non ha... cioè, non ha questo problema, che ha carico di mamma, però non possiamo soffrire del reddito di cittadinanza in quanto mamma ha delle... Delle altre agevolazioni, è possibile? Sì, sì, vabbè, mamma è invalida, ha delle case, però il figlio è disoccupato. Mi chiedevo, perché non può avere il reddito di cittadinanza? Allora, io giro subito la sua domanda all'esperto, perché l'esperto ovviamente non sono io, io faccio da tramite, l'esperto è Carmelo, dell'Amnime, il CAF di Palermo. Cosa può fare questa signora? Allora, sostanzialmente può fare poco, ecco, perché comunque vivendo nello stesso nucleo familiare con una persona che è pensionata, è chiaro che il reddito percepito dalla pensionata e le proprietà di cui parlava appunto la signora aumentano quel valore ai fini sei che serve per poter accedere al sussidio. Quindi purtroppo, ahimè, dobbiamo dire alla signora che non potrà accedere al sussidio. Tra l'altro chiedo alla signora Emiliana di seguire anche la fascia successiva dove si parlerà del modello reddito che viene compilato dai pensionati, quindi penso che le possa anche servire questo. Quindi purtroppo non può accedere al reddito di cittadinanza? Eppure, ho visto sul sito che in quanto essendo disoccupato... Su quale sito signora? Indichiamo quale sito perché è importante. L'Inps, il sito dell'Inps? Voi fate sempre riferimento ai siti ufficiali, mi raccomando, o chiedete a persone esperte? Certo, certo. Carmelo, vuoi dire qualcosa? No, io oggi mi sono riformata, quindi tutto negativo. Però mi chiedevo, cioè, ok, essendo a carico, quindi bisogna avere due residenze diverse? Carmelo, bisogna avere due residenze diverse? Anche se il fratello disoccupato avesse una residenza diversa, ecco, adesso ovviamente non sto dicendo di cambiare la residenza per poter accedere al sussidio, perché è una cosa che purtroppo non si può fare, anche se il fratello disoccupato cambiasse la residenza, ma restasse comunque a carico IRPEF della pensionata, quindi di sua mamma, non avrebbe diritto a reddito di cittadinanza, perché appunto, come dicevamo prima, la, come stavamo cominciando a dire prima, effettivamente non ho completato, la composizione del nucleo familiare non è una composizione di soltanto le persone che abitano in quel nucleo familiare. Quindi io ho la residenza con i miei genitori e con mio fratello e posso, perché sono disoccupato, accedere al reddito di cittadinanza. La composizione del nucleo familiare, ai fini sé, tiene conto anche del fatto che una persona, anche maggiorenne, se non è coniugata e non ha figli, se è a carico IRPEF del pensionato, comunque va indicato all'interno dell'isee del nucleo familiare, ai fini sé del pensionato stesso, della persona di cui è a carico. Quindi fa reddito anche questo. Quindi comunque, esatto, si va a sommare tutto il reddito. Allora, intanto salutiamo la signora Emiliana da Siracusa, grazie per aver chiamato, insomma, per aver sollevato questo tema abbastanza importante e, insomma, che anche altre persone a casa hanno potuto ascoltare e continuiamo a parlare appunto con Carmelo. Allora, Carmelo, ritorniamo a questa cosa del reddito di cittadinanza. Io in maniera spicciola voglio capire questo. Facciamo caso che io sia una comune cittadina che lo scorso anno ha chiesto il reddito di cittadinanza. Ora, quest'anno, entro il 31 gennaio, devo compilare questi sé. È possibile che compilando questi sé io non abbia più il reddito di cittadinanza? È possibile che io lo perda? Cioè, credo che sia un argomento abbastanza... Ciò che è sicuro è che nelle attestazioni arrivate nelle scorse settimane, perché appunto abbiamo potuto cominciare a presentare all'Inps le DSU soltanto a partire dal 1 gennaio per i rinnovi, nelle attestazioni arrivate nelle scorse settimane ci ritroviamo calcolato anche il quanto percepito nel 2019 da quel nucleo familiare. Quindi il reddito di cittadinanza percepito nel 2019 è stato inserito come reddito del nucleo familiare e quindi potrebbe anche non dar diritto alla prestazione a partire dal mese di febbraio. Dico potrebbe perché credo che comunque ci sarà un intervento da parte del governo, comunque non so, da parte di chi può intervenire per evitare di far perdere questo diritto a delle persone che comunque non hanno una situazione economica specialmente in questo periodo di crisi e di pandemia. È un'emergenza, infatti, siamo in periodo di emergenza non solo sanitaria ma economica. Quindi potrebbe gettare nel caos milioni di persone? Sì, se così fosse a partire dal mese di febbraio quasi tutti, per non dire tutti, ma quasi tutti rischierebbero di aversi quantomeno decurtato l'importo del reddito di cittadinanza. Quindi non è chiaro ancora neanche per voi? Ancora le linee guida non sono chiarissime? Esatto, non abbiamo ancora ricevuto un'informazione certa e sicura da questo punto di vista. Sappiamo soltanto, appunto, rendendoci conto dalle attestazioni giunte, che purtroppo ci sarà questo problema. Allora, intanto che ci siano delle indicazioni più chiare cerchiamo ancora di capire come si deve presentare questo modello ISEE. Quali sono i documenti da presentare per la DSU, quindi per la dichiarazione sostitutiva unica? Allora, i documenti da presentare intanto sono i documenti identitati tutto il nucleo familiare, assieme al codice fiscale. La cosa più importante di tutte, comunque, sono i certificati di saldo e gestenza media al 31 dicembre 2019, che è un aspetto fondamentale, perché l'ISEE 2021 si rifotografa quella situazione al 2019, quindi la situazione reddituale del nucleo al 2019. Quindi una fotografia dell'estratto conto di chi presenta il... Esatto, una certificazione rilasciata dall'ente banca o posta, che sia, di tutto il patrimonio finanziario di ogni singolo componente del nucleo familiare. E a questo proposito è vero che c'è stato caos alle poste, perché molti volevano, insomma, questo certificato? Perché purtroppo, essendo fondamentale, la posta d'oggi non si è... Le poste italiane ancora non si è organizzata a inviare, per esempio, a casa del titolare del conto il certificato. Quindi ognuno, rischiando appunto, sapendo che entro il 31 dicembre e il gennaio bisogna rinnovare l'attestazione, c'è stata la calca agli uffici postali, perché è chiaro che... Creando anche assembramento, diciamo, che non è il massimo in questo momento. Esatto. Soprattutto qui in Sicilia, dove siamo in zona rossa, ecco, non è il massimo. Quindi si potrebbe anche rilasciare questo certificato in maniera diversa, telematica, magari oggi, che si fa tutto online. Non pensi? Sì, secondo me sì. C'è la cosa più giusta, sarebbe mettere a disposizione, che ne so, nell'app, oppure appunto inviarlo proprio al domicilio. Dico comunque le poste italiane, le comunicazioni, i propri correntisti le invia. Quindi io invito anzi a organizzarsi in tal senso per evitare questi assembramenti, questa calca di persone agli uffici postali. E' vero che esistono diverse tipologie di sé? E' vera questa cosa? Esistono diverse tipologie di sé, esatto. Quali sono? Perché possiamo dire che l'issè, ecco, per come è stato... Aspetto un attimo, cerco di inquadrarmi bene. Devi andare solamente alla tua sinistra, Carmelo. Esatto. Ed va benissimo. Ok, dicevamo, esistono diverse tipologie di sé, ognuno dei quali serve per una determinata prestazione. Per esempio, poco fa parlavamo dell'università, c'è l'isè per l'università, esiste l'isè sociosanitario, che è l'isè dedicato a quelle persone, a quel nucleo familiare al cui interno è presente una persona con disabilità, ecco, riconosciuta. Poi, appunto, abbiamo l'isè minori. L'isè minori che è quello che si utilizza per la stragrande maggioranza per tutte le prestazioni legate, appunto, ai minori presenti all'interno del nucleo. Come, per esempio, dicevi tu bene poco fa, il bonus bebè. Ok, o quell'asilo nido, ricordiamo. O asilo nido, esatto. Ci sono tutte queste prestazioni, appunto, di questo isè modulare, di questa DSU modulare, che servono e si presentano in base alla tipologia di richiesta che si intende presentare. Ma i telespettatori, prima di venire al CAF e di creare assembramento al CAF, possono trovare queste informazioni su qualche sito ufficiale? Dove? Assolutamente sì. Il sito ufficiale, ovviamente, che è quello più ufficiale di tutti, è il sito dell'Inps. Esatto. Da cui i telespettatori potrebbero anche calcolare un'isepere compilata, ecco, perché riferendosi appunto ai redditi patrimoniali e finanziari di due anni prima, l'amministrazione finanziaria e l'Inps conosce già la nostra situazione. Quindi, dal sito Inps, attraverso le credenziali SPID o attraverso il PIN dispositivo dell'Inps, è possibile presentare e richiedere l'attestazione 2021. Allora, Carmelo, c'è un'altra telefonata in linea, vediamo chi chiama. Pronto? Pronto. È un uomo. Salve. Come si chiama? Carlo. Signor Carlo, da dove chiama? Messina. Da Messina. Allora, cosa vuole chiedere al nostro esperto del CAF Anmil, Carmelo Loforte? La procedura che è possibile per eventualmente il bonus bebè, visto che aspettiamo un bimbo. Aspettato un bimbo finalmente, una notizia positiva, insomma, in un programma che parla molto spesso di emergenze. Auguri, intanto. Allora, cosa possono fare per chiedere il bonus bebè? Allora, mi associa intanto anch'io agli auguri, ecco. Però, invito il signor Carlo, una volta nato il bebè, munitosi di certificato di testera sanitaria, quindi il codice fiscale del nascituro, di recarsi con tutta la documentazione, quindi quello che dicevamo prima, documenti di identità, codice fiscale e tutti gli altri documenti, al caffè, per la presentazione della nuova DSU. È chiaro che il nuovo nato deve essere inserito nel nuovo ISEE, quindi anche se lo avete presentato in questo mese, è necessario ripresentarlo una volta nato il bambino, per poi procedere e presentare la richiesta all'Inps attraverso i canali ufficiali o attraverso il padronato. Anche il certificato di nascita, credo, credo perché ho avuto tre figli, quindi anch'io ho chiesto il bonus bebè, e quindi sì. Basta soltanto il codice fiscale o il certificato di attribuzione del codice fiscale. Perfetto. Vuole chiedere qualche altra cosa? Ok, grazie. Allora, signor Carlo, continuiamo con Carmelo Loforte del CAF di Palermo Anmil. Vediamo se ci sono delle richieste qua sulla nostra pagina Facebook. Vediamo se ci sono dei commenti. Intanto. Carmelo, c'è molta gente quindi che secondo me ha le idee un po' confuse soprattutto su quali sono le prestazioni e le agevolazioni fiscali che possono richiedere. Come mai? Non c'è molta informazione da questo punto di vista? Siamo noi del CAF appunto per questo per poter cercare di purtroppo la normativa italiana molto spesso è confusionaria perché comunque l'Italia è un paese a domanda ecco quindi se tu la domanda non la presenti la prestazione non ti viene riconosciuta e molto spesso succede appunto che si crea questa confusione anche anche sono sincero anche per noi a volte si crea la confusione in base alle prestazioni che vanno presentate però è chiaro che sulle informazioni è informati per come siamo cerchiamo di dare la risposta migliore ai nostri utenti. C'è un'altra domanda Carmelo e un'altra telefonata allora sentiamo Pronto? Buonasera Alfredo da Palermo Alfredo da Palermo allora signora Alfredo che cosa vuole sapere dal nostro esperto Carmelo Loforte? Se era possibile per i titoli di partita IVA per se ti regni di cittadinanza ecco sempre rientrando nelle soglie di sé io la ringrazio perché questa domanda è molto specifica e credo che sia di interesse per molte persone che hanno in questo momento la partita IVA e che stanno soffrendo di questa situazione di emergenza allora Carmelo rispondiamo subito dicendo passiamo a questo punto a parlare un attimo di quelle che sono i requisiti per il reddito di cittadinanza perché è chiaro che in questo momento la gente è più interessata al reddito di cittadinanza che ad altre prestazioni il reddito di cittadinanza per la partita IVA perché ti dai partita IVA si può anche richiedere purché non solo si rispetti il valore i sé che non deve essere superiore a 9.600 euro ma ogni tre mesi va presentata l'RDC quindi va presentata la comunicazione a IMS appena si rischia appunto la perdita del beneficio quindi rispettando le soglie mensili non solo quelle dai sé ma rispettando anche le soglie mensili dichiarate tramite la partita IVA si può anche richiedere il reddito di cittadinanza nessuno lo vieta quindi anche chi ha partita IVA può richiedere il reddito di cittadinanza messaggio molto importante quindi tutte le persone che in questo momento hanno aperto una partita IVA ma stanno soffrendo di questa situazione covid magari le loro attività si sono fermate possono richiedere il reddito grazie Alfredo da Palermo aspetta c'è un'altra telefonata allora Carmelo vuoi chiudere il tuo pensiero e prendiamo una telefonata sì no stavo dicendo al signor Alfredo appunto che è chiaro che bisogna rispettare quindi fotografando come dicevamo prima al 2019 c'è il rischio che magari non abbia il diritto perché supera il requisito per poter accedere alla reddito di cittadinanza ma in questo caso invito il signor Alfredo a creare a farsi a presentare a presentare scusami l'ISEE corrente che è un'ulteriore modalità di SEE per poter fotografare la situazione negli ultimi 12 mesi ok allora vediamo differente rispetto al primo sentiamo la prossima domanda allora abbiamo la chiamata pronto chi parla? signor Renna signor Renna da? da dove chiama? da Palermo da Palermo cosa vuole sapere dal nostro esperto del CAF ANMIL di Palermo? questo sento voglio sapere siccome io ho fatto cioè il reddito di cittadinanza sono invalido siccome ho cambiato casa ho fatto diciamo il domicilio come si dice il reddito di il domicilio e qua hanno trovato un'altra persona e hanno e siccome non lo hanno porto di qua perciò ora devo andare a Borgo Nuovo il giorno 4 per farlo perciò così ora me lo fermano il reddito di cittadinanza che non lo posso fare più allora a quanto ho capito il signor Renna aveva questo reddito di cittadinanza in quanto invalido però hanno richiesto tra i documenti il domicilio ha messo questo domicilio e però ho preso l'accia casa ho preso l'accia casa risulta un altro proprietario di residenza di un'altra persona cosa può fare? intanto questa persona che non è più residente lì ovviamente bisogna toglierla perché l'ISEE fotografa quella che è la situazione appunto come dicevamo prima la convivenza anagrafica di tutti i soggetti presenti in quell'indirizzo quindi non soltanto la mia famiglia ma appunto come nel caso del signorenda anche questa persona che si ritrova lì sulla residenza che lui si è portato ok quindi in questo momento in questo modo dal momento in cui viene presentato una DSU mancante di questo soggetto che ha residenza assieme al signorenda l'IMS blocca il sussidio perché facendo i controlli tramite l'ufficio anagrafe del comune di Palermo è chiaro che non c'è corrispondenza tra quello che è la realtà e quello che è stato dichiarato ai fini Sè quindi in questo caso potrebbe sospendere anche il sussidio quindi questo è un passaggio molto importante deve fare molta attenzione il signorenda in quanto deve capire realmente un'altra telefonata ecco pronto chi è in linea? pronta buongiorno buongiorno io sono Marianna la signora sono una pensionata da dove chiama? Marianna Marianna e da dove chiama? da Palermo sempre da Palermo ok allora io sono pensionata e non riesco a nil modo assoluto di prendere questo reddito di cittadinanza perché non riesco a avere delle risposte anche per il bonus casa d'affitto e mi hanno fatto fare un sacco di cose però non riesco a avere nessun risultato io sinceramente sono un po' demoralizzata sì perché è demoralizzata proprio perché non è possibile che io sono una pensionata con una pensione non alta diciamo che l'orde sono un mille e cento mille e due non andiamo nei dettagli signora siamo sempre in diretta su una tv regionale online non andiamo nei dettagli allora abbiamo solamente due minuti di tempo per questa fascia dedicata al CAF quindi al modello ESEA reddito di cittadinanza Carmelo rispondi per favore alla signora cosa può fare? l'importo della pensione è già oltre il limite stabilito poi comunque se la signora vive da sola bisogna partire dal presupposto che il requisito per il reddito di cittadinanza è non superare i 500 euro mensili ecco parliamo di una cifra mensile e quindi comunque con l'importo della pensione la signora va oltre quello che è il requisito quindi ci deve essere un requisito ancora più basso della sua pensione so che oggi come oggi è difficile vivere con 1000 euro al mese insomma avrà tantissime spese questa signora però purtroppo non fa parte dei requisiti allora consiglia la signora di continuare a vedere la trasmissione perché nella seconda fascia parleremo di modello reddito che è appunto quello che devono presentare i pensionati intanto ringrazio Carmelo Loforte l'esperto del CAF di Palermo Anmil che è stato con noi è stato gentilissimo e dettagliatissimo in tutte le sue informazioni grazie a voi e ti ringrazio insomma speriamo che questa situazione si risolva presto questa del reddito di cittadinanza e io chiedo al pubblico di fermarsi un attimo perché noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo come studio siamo nuovamente in diretta con 19 live vi ricordo che potete interagire con noi chiamandolo 091 333 660 o mandando un whatsapp al numero che vedete sullo schermo la puntata di oggi parla dei temi caldi dei CAF e dei patronati in particolar modo del modello ISEE del modello RED e del reddito di cittadinanza abbiamo in studio con noi un'esperta da Catania la signora Flora Strano responsabile ACLI di Catania Service benvenuta buonasera grazie dell'invito adesso in questa seconda fascia parleremo anche del modello RED allora io manderei innanzitutto un contributo video dove capiamo che cosa è chi lo deve presentare e poi ne parliamo nuovamente in studio il contributo video è di Roberto Marco Oddo cos'è il modello RED a cosa serve e quando si deve presentare il modello RED è una dichiarazione reddituale che l'Inps richiede annualmente ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito ad esempio integrazione al minimo pensioni di reversibilità assegni al nucleo familiare maggiorazione sociale attraverso il RED l'ente previdenziale verifica la sussistenza dei requisiti reddituali da parte del pensionato per continuare ad avere diritto alla prestazione tali informazioni sono richieste dall'Inps attraverso una matricola con la quale identifica anche i redditi che servono ai fini della determinazione della prestazione stessa il modello RED può essere comunicato online attraverso il portale dell'Inps o tramite CAF la scadenza della presentazione del modello RED termina il primo marzo 2021 in studio con 19 live abbiamo appena visto un contributo video di Roberto Marcodo che ci spiegava che cos'è il modello RED adesso con la nostra esperta di Catania la signora Flora Strano cercheremo di capire chi deve presentare la domanda e come come già è stato detto nel servizio che ha mandato il vostro collega chi deve presentare il modello RED sono tutti coloro che sono che devono avere delle pensioni collegate al reddito quindi appunto chi percepisce invalidità chi percepisce un assegno sociale o chi appunto deve avere un incremento della maggiorazione della pensione minima questo è il resto non va non va presentato quindi chi ad esempio presenta ha una pensione di reversibilità ad esempio o una pensione di vecchiaia non deve presentarlo almeno che deve ne dichiarare il reddito del coniuge se serve ovviamente però sostanzialmente sono coloro che hanno le prestazioni collegate al reddito in base al reddito sono i pensionati più che altro sì sì sostanzialmente no solo i pensionati solo i pensionati lo devono presentare ma è vero che esiste un modello redd semplificato il modello redd semplificato sì è un modello che si presenta tramite l'IMS quindi tramite l'accesso che si ha appunto all'IMS tramite un pin personale che ormai si sta trasformando da pin personale ora occorre obbligatoriamente avere uno speed quindi che è un accesso un po' più particolare sempre tramite il sito in IMS ma un po' diverso e tramite questo il pensionato verrà indirizzato sulla sua pagina pensionistica e dichiarare i redditi che sono obbligati appunto a dichiarare secondo quello che dice l'IMS ma poc'anzi parlavamo con l'altro esperto di Palermo che c'è stato un po' di caos alle poste appunto per avere questo estratto conto per poi la giacenza da presentare per il reddito di cittadinanza c'è stato anche un po' di caos alle poste per lo speed perché tantissimi che non sanno magari bene utilizzare i sistemi le app del cellulare stanno andando alla poste e creano assembramento è vero? Sì sì questo sì anche per questo infatti noi per esempio anche come CAF stiamo offrendo anche questo servizio di richiedere la speed quindi la chiediamo noi per loro tramite i loro credenziali email riusciamo a chiederla noi così evitiamo il sovrappollamento alle poste anche per questo ricordiamo che cos'è lo speed è un'identità digitale un'identità digitale sì che permette appunto al cittadino non solo al pensionato ma al cittadino di accedere appunto al sito al sito IMS o anche agenzia delle entrate al catasso cioè permette vari accessi quindi è bene averlo un po' tutti abbiamo una telefonata pronto? pronto salve come si chiama? mi chiamo Salvatore chiamo Damessina Damessina cosa vuole chiedere alla nostra esperta di Catania? in merito alla cittadinanza sempre reddito di cittadinanza questo è il tema caldo di oggi che interessa i nostri telespettatori allora volevo sapere come siamo io e mia moglie no? io prendo solamente una piccola pensione piccolissima e si può accedere a questo cittadinanza però abbiamo qualche casetta qualcosa non lo so se fa reddito cosa non bisogna superare quindi il nucleo familiare è composto da due persone sì e prendiamo solamente la pensione la mia minima solo la sua minima quindi una sola pensione però avete delle case ha detto esatto degli immobili però non abbiamo non sono una ci abita mio figlio una ci abitiamo noi diciamo non è che sono affittate se abbiamo reddito qualcosa no niente allora possono richiedere signora possono richiederlo solo se il valore il patrimonio mobiliare di questo immobile dove non hanno la residenza non superi i 30.000 euro quindi potrebbero richiederlo però è tutto da verificare in base appunto al valore dell'immobile quindi anche se abita il figlio ma la proprietà è del marito o della moglie e superi i 30.000 euro non possono accedere quindi se superi 30.000 euro non si può accedere purtroppo allora ritornando al modello red vediamo un po' di capirne qualcosa in più abbiamo detto che esiste il modello red semplificato ma esiste anche il modello red che è asseverato documentale o autocertificato cosa vuol dire? la differenza sostanziale è tra l'asseverato e il documentale che è la stessa cosa è quando il cittadino non presenta nessuna documentazione e quindi noi acquisiamo meno del 50% della documentazione che ci richiede l'IMSS che può essere il reddito da lavoro il reddito da immobili il reddito da pensione estera mentre quello autocertificato è quando ci esibiscono la documentazione quindi più del 50% di quello che appunto richiede l'IMSS sempre tutte queste informazioni specifiche dove li trovano i telespettatori? dal sito l'IMSS si trovano sempre tutto sul sito l'IMSS e quello ufficiale ovviamente sì sì ok quindi verificate sempre il sito dell'IMSS per tutte le informazioni vi è un'altra chiamata in linea pronto chi parla? pronto salve buonasera da dove ci chiama? Bagheria da Bagheria il suo nome? Elisabetta Elisabetta cosa vuole sapere? allora buonasera signora per quanto riguarda il reddito di cittadinanza io lo percepisco da 18 mesi ho fatto il rinnovo e sono io mio figlio sono disabile in valida civile e percepisco una pensione di 286 euro quella minima volevo sapere essendo disabile e con un figlio a carico sono in affitto non possiedo nulla se quest'anno sarà ho fatto già l'ISE se ho intanto diritti dal momento che sono disabile per quanto riguarda l'ISE e poi se il reddito sarà uguale a quello dell'anno scorso o sarà inferiore o superiore quindi la signora percepisce già l'invalidità civile a quanto ho capito e il reddito di cittadinanza ha presentato il modello ISE ed entra nei parametri perché entra il 31 di gennaio per chi richiede il reddito di cittadinanza continuerà ad averlo questo reddito di cittadinanza quest'anno avendo presentato l'ISE o no? allora tutto dipende sempre dal requisito economico quindi se la signora rientra nei parametri che vengono stabiliti per il reddito di cittadinanza continuerà a riprenderlo per altri 18 mesi anche se ha l'invalidità anzi quello è un punto a suo favore perché fa abbassare l'importo dell'ISE quindi se nell'ISE l'anno precedente non è rindicato mentre quest'anno sì magari l'importo potrebbe aumentare ricordiamo quali sono questi parametri per rientrare nel reddito di cittadinanza perché è il tema che sta molto a cuore ai nostri telespettatori in questo momento di emergenza allora quindi l'indicatore dell'ISE non deve superare i 9.360 euro e poi non bisogna avere un reddito da patrimonio immobiliare quindi parliamo di conti correnti libretti postali bancari che supera i 6.000 euro per singolo componente aumentato di 1.000 euro per ogni componente fino a massimo di 10.000 e il patrimonio immobiliare quindi parliamo di fabbricati e terreni che non deve superare i 30.000 euro all'esclusione della casa di abitazione quindi quella dove si ha la residenza quindi devono essere tutti dei redditi molto bassi ovviamente per ricevere questo sussidio in più certo spero insomma che la nostra esperta da Catania abbia risposto bene alla signora abbia esaudito insomma le richieste della signora di Bagheria e noi continuiamo ancora con vediamo intanto se ci sono degli altri messaggi sempre con il modello red chi lo presenta e viene al CAF quanto paga questa prestazione? non si paga non si paga è una prestazione no non si paga assolutamente no quindi come tutte le prestazioni diciamo che eroga l'IMS che erigate l'IMS sono servizi gratuiti assolutamente gratuiti ribadiamolo perché avevo visto un po' online ed è una domanda frequente e forse c'è chi lo fa pagare non lo so per trovare questa domanda così spesso online ci sono delle truffe purtroppo noi abbiamo avuto delle riscontranze nei nostri utenti che c'è chi lo fa pagare purtroppo quindi l'ISE ad esempio o anche altri l'ISE si è capitato infatti a noi chiedono una volta quanto devo però noi ovviamente rispondiamo che sono prestazioni assolutamente gratuite che non vanno assolutamente pagate quindi ricordiamo che se vi recate ad un CAF e presentate il modello RED o il modello ISE non dovete pagare assolutamente niente sono delle prestazioni gratuite mi raccomando sempre per quanto riguarda allora riprendiamo il modello ISE dato che è anche questo un argomento che interessa e tutte le agevolazioni che possono avere le famiglie le famiglie con bambini allora cerchiamo un po' di capire delle persone che hanno all'interno del nucleo familiare un figlio due figli o tre figli che cosa possono richiedere quali agevolazioni chi ha più figli potrebbe avere più agevolazioni o non è così allora più figli se parliamo di tre figli minori e da tre figli in su ovviamente si può chiedere l'assegno del nucleo familiare al comune quindi tramite l'INPS sempre quindi ti presenta al comune l'INPS arroga questo assegno e l'importo di questo assegno è all'incirca di 129 mensili non superando un'ISE che è di 23.200 circa all'incirca questo quindi si viene sempre al CAF si presenta l'ISE e poi si presenta la domandina al comune per avere diritto a questa agevolazione quindi minimo tre figli però un'ISE sempre basso 23.200 di 23.200 all'incirca non è bassissimo un'ISE di 23.200 no 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 allora abbiamo nuovamente con noi un'altra una telefonata del signor Matteo pronto signor Matteo Marcello Marcello si perfetto aveva appena parlato con noi e cos'è che non ha capito bene io non ho capito diciamo quando ha parlato lei siccome ho fatto già il contratto l'ho registrato il contratto è registrato ora devo andare nel palazzo dove devo andare a abitare hanno trovato una persona ora l'hanno tolto però io non ci è arrivato diciamo a fallo diciamo perché ci hanno detto ci abita una persona perché ora se ne parla il 4 marzo il 4 di febbraio andacci a Borgo Nuovo insomma ve lo tolgono i redditi di cittadinanza e poi me lo mettono a febbraio non è detto allora ora facciamo rispondere la nostra esperta prima ricordiamo la telefonata allora questo signore aveva chiamato all'interno della prima fascia di 19 live aveva chiesto al primo esperto del CAFANMIL di Palermo perché gli hanno tolto il reddito di cittadinanza dato che ha cambiato residenza e hanno trovato all'interno della sua residenza un altro proprietario e quindi a quanto ho capito hanno tolto per un periodo questo reddito è possibile questa cosa cosa può fare questo signore allora da quello che ho capito praticamente risulterebbe al comune che questa seconda persona ha la stessa residenza sì quindi perfetto quindi fino a quando risulta residente dovrà indicare nell'ISE anche questa persona se no aspettare appunto che esca dalla residenza e poter fare il suoISE da solo e poter avere accesso all'arreddito perché in questo caso è come se lui stesse dichiarando il falso quindi dichiarare che è una sola persona quando invece si è in più residenti ma a quanto ho capito non si conoscono il problema è che non si conoscono lo so questo l'ho capito però purtroppo facendo il controllo incrociato l'Inps con il comune risulta questa X persona che è residente quindi fin quando non esce dalla residenza ha questo problema quindi per questo mese di gennaio purtroppo c'è questo problema ripartirà tutto a febbraio come gli hanno detto a Borgo Nuova non è appena uscirà dalla residenza l'altra persona sì sento squillare tantissime telefoni quindi ci saranno altre domande che arrivano per noi stavamo parlando appunto dell'assegno familiare quindi puoi richiederlo chi ha almeno tre figli un ISEE sui 20.000 euro ma questa cosa dell'assegno unico invece di cui si sta parlando molto allora questo è ancora in divenire diciamo è ancora in divenire dal primo luglio di quest'anno dovrebbe diciamo partire questo assegno unico quindi dovrebbero essere tolti gli assegni familiari le detrazioni fiscali che si di cui i dipendenti usufruiscono sullo stipendio quindi sulle buste pagre però ancora è in divenire ancora l'inps deve emanare magari le direttive le procedure ancora stiamo aspettando anche noi aspettiamo le direttive non si sa dovrebbe andare in porto dovrebbe andare in porto per adesso vengono al CAF a chiedervi qualcosa in merito? qualcosa già sì perché comunque il cittadino non appena arriva la notizia subito e chiede informazioni è bene comunque informarsi prima anche perché si presume che occorra anche per questo richiedere il certificato ISEE quindi magari richiederlo già adesso per essere pronti già con luglio sarebbe buono ma a quanto ho capito chi riceverà l'assegno unico non avrà le altre agevolazioni che ne so bonus bebè bonus nascita è giusto? sì perché per essere un assegno unico sì un assegno un assegno mensilmente quello che aspetta e non ci saranno neanche le detrazioni sull'IRPEF quindi perfetto sì sì ok perfetto ho capito bene allora allora telefonata pronto? pronto salve buongiorno buon pomeriggio con chi parliamo? sono Domenico Domenico da dove chiama? da dove ci sta guardando? da Palermo sempre da Palermo allora mi dica tutto volevo un'informazione su quanto riguarda il CUD il CUD ok sì perché a marzo 2019 ho lavorato con una ditta mentre prendeva il reddito di cittadinanza e quindi? per un mese e mezzo per un mese e mezzo ho richiesto il CUD l'ha ditta e mi hanno detto che ancora l'ufficio dell'entrata non non lo non non dai via libera ragioniere diciamo quindi è possibile che questo documento ancora non sia arrivato? è possibile questo? Gabriella scusa Flora sì no scusi il CUD è di quale anno? relativo al 2020 o relativo al 2019? non ho capito bene è il CUD del 2019 a quanto ho capito giusto? no io ho lavorato nel 2020 quando è iniziato il virus CUD 2020 allora ancora è presto ancora i datori di lavoro entro marzo devono rilasciare il certificato unico e quindi emanarlo anche all'agenzia delle entrate sì ancora è presto quindi ancora materialmente i documenti non sono arrivati a destinazione? entro fine marzo devono dichiararlo quindi ancora è presto sì se non dovesse accadere entro marzo può richiamare ci può ricontattare o andare ad un CAF rivolgersi ad un CAF sì ringraziamo anche questo contributo da Palermo insomma tanti sono tante sono le domande che si pongono i nostri telespettatori in questo momento perché c'è grande caos di emergenza sanitaria economica e in questo momento anche grande caos all'interno dei CAF a quanto abbiamo capito come qual è la situazione a Catania abbiamo sentito poc'anzi la situazione su Palermo che aria si respira a Catania anche a Catania la stessa situazione che si respira un po' ovunque la gente ha sempre bisogno di assistenza purtroppo si sovraffolla quando non dovrebbe c'è molta molta confusione noi cerchiamo ovviamente in tutti i modi di rendere più agevole l'ingresso nei nostri uffici il distanziamento sociale perché la situazione altrimenti diventa molto molto critica un po' per tutti però anche da noi l'affollamento c'è tanto tanto affollamento tante domande oggi abbiamo cercato di rispondere insomma il più possibile a tutti i quesiti del nostro pubblico io ringrazio la signora Flora Strano del responsabile Acli Service di Catania per aver dato il suo contributo a questa puntata sui CAF e sui patronati